Giovanni, partita con il Fano, una partita che diventa fondamentale alla luce dei risultati di queste prime 13 giornate? Sì, sicuramente per noi è una partita decisiva, una partita importante. Stiamo lavorando già da ieri per arrivarci al meglio. L'obiettivo ovviamente sono i tre punti e quindi ci daremo da fare per raggiungere questi tre punti. Il problema del Modena forse sono questi blackout nel corso dei 95 minuti che ci possono stare all'interno di una partita. Come state lavorando per limare questi dettagli? Stiamo lavorando, cercando di resistere alle difficoltà che si presentano comunque durante una partita. Domenica penso che i blackout non è che ce ne siano stati. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo preso due palli, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni da gol. Nel secondo tempo siamo andati un pochino più in difficoltà, però non ci sono stati dei blackout perché alla fine il Gubbio non ha quasi mai calciato in porta e la partita è stata decisa. Alla fine è un episodio, quindi noi continuiamo a lavorare come stiamo facendo fino adesso, cercando di migliorare in ogni cosa possibile e cercando sempre di fare il nostro meglio. In casa l'unica vittoria è arrivata contro Rimini, poi tre pareggi e due sconfitte. Cosa mi manca un po' tra Al Braglia per cercare questi tre punti? Guarda, cosa ci manca? Non lo so, secondo me comunque giocare davanti a un pubblico così è stimolante, però allo stesso tempo ti può mettere magari un pochino più di pressione perché comunque siamo a Modena, la piazza è esigente, però non c'è qualcosa che ci manca fondamentalmente. Domenica la sfortuna secondo me ha recitato una parte importante, gli episodi hanno deciso la partita, quindi ripartiamo da quello cercando di andare oltre anche queste cose qui e cercando di raggiungere appunto questi tre punti. Fanno nelle zone basse che partita ti aspetti? No, mi aspetto una partita difficile, non guardiamo la classifica, non sappiamo quanti punti hanno, cerchiamo di giocare a prescindere dal fatto che stiamo giocando contro il Fano, giocando contro la prima in classifica. Dobbiamo andare in campo fornendo la nostra miglior prestazione e raggiungendo i tre punti, questo è l'unico obiettivo per cui stiamo lavorando da ieri. Giovanni, si sono viste nelle ultime partite, anche un po' nell'arco della stagione, tante amnesie anche dietro, anche se poche ma decisive. Tu, che stai giocando più di tutti insieme a Capitan Perna, come la stai vedendo? C'è un problema difensivo o c'è un problema di difesa dell'intera squadra a partire dagli attaccanti? No, penso che un problema difensivo no, anche perché comunque nell'arco della partita ci sta a concedere qualcosa, ci sta a concedere qualche occasione all'avversario perché fa parte del calcio, come le occasioni le abbiamo noi, le creano anche gli avversari, però penso che problemi di amnesia difensiva non ce ne siano. Ovvio, c'è sempre margine di miglioramento e quello lo stiamo raggiungendo, quindi piano piano i miglioramenti, secondo me già da inizio anno, soprattutto dopo magari le partite con l'Arzi Campo, in quel periodo lì i miglioramenti si stanno venendo. Siamo in crescita, purtroppo dopo la vittoria di Carpi abbiamo subito due sconfitte, che però, ripeto, non del tutto meritate, anzi. Com'è il morale della squadra? Tu che lo stai vivendo? Il problema può darsi che sia quello, perché comunque vediamo una partita dove un pareggio ci sarebbe stato stretto, addirittura siamo usciti da Gubbio con zero punti, quindi l'aspetto morale in questo momento è quello da curare con maggiore attenzione, perché comunque, sai, se esci da una trasferta con dei punti, riprendere la settimana è un altro conto. Siamo usciti con zero punti, quindi bisogna ricaricare le pile e prepararci per un'altra battaglia. La società si è espressa sia dopo la partita di Gubbio che nei giorni scorsi, saranno due partite decisive dove uscire con sei punti è quasi obbligatorio, ti chiedo il tuo punto di vista. No, sono d'accordo con quello che ha detto la società, abbiamo la fortuna di giocare due partite in casa, due partite che per noi sono importanti, l'obiettivo è assolutamente quello, anche perché comunque abbiamo una classifica che è corta, cioè bastano sei punti o bastano ad esempio due sconfitte, ti trovi o nei play-off o in un attimo nei play-out, quindi il campionato è lungo ed è un attimo con un po' di fiducia, con qualche punto in più, sperando che anche la fortuna ci dia una mano, in certe circostanze ritrovarsi in posizioni migliori.